oh gas gas porca loca gas a martello c'è una piazza di moto anche lui ha fatto uguale ho capito è sempre gas che le nostre prima la passata dai ah tripè devi scendere a timbrare bravo 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 imposta le coordinate esatto dai gps e vai rilassi 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 arrivo vengo tranquillo tanto li faccio tutte le domeniche ora non ho quel problema tranquillo andiamo così abbiamo la bambiola stai figgiando che è? hai la bandiera qui lì sembra libera dietro il sasso ti va bene orizzontale fino all'altra bandiera senza problemi come vuoi giusto non faccia nessuna parte vai la prima la prima è quella là in fondo ma tanto le puoi fare a come vuoi tu se vuoi puoi partire anche da questa e andare in là in base a dove non c'è gente ti sei rilassi ti sei rilassi no dai mettici sotto qua io non ti ho detto niente dai che problemi alle 50 anni figaro dai bravo curate quella bravo bravo bravo